buongiorno a tutti altro video io ho fatto vedere come io faccio questa questa maglione questa con v adesso io faccio non v faccio con con copre collo faccio promemoria come abbiamo fatto cosa io ho detto altra volta allora io ho preso 126 più una per per chiudere e per fare circolare questa maglia indietro questa parte di indietro questa davanti questa maniche allora nella calonna vertebrale qui nel centro noi dobbiamo fare reglan maggior parte nel reglan noi facciamo con questa maniera e aggiungiamo e qui davanti reglan e dopo reglan invece qui abbiamo spostato reglan perciò qui non aggiungiamo solo nella calonna vertebrale e anche così davanti allora io ho preso misura di mia testa quanti mali io ce l'ho nel un centimetro e mi è venuta 126 più una e dopo io devo allungare schienale altrimenti dopo questo vestito questo vestito può tirare su questa chiedo scusa questo metodo giapponese perciò qui questa centrale dopo io ho fatto due mali e ho messo un ellino oppure sessi sessi cosa perché quando noi cominciamo fare avanti indietro senz'altro voi non sbagliate sposto quando noi prendiamo questi qui noi aggiungiamo quando torniamo parte di rovescio non aggiungiamo e facciamo parte di rovescio prendiamo questa parte due maglie torniamo prendiamo questa e lo stessa quantità come una maglia qui allora anche qui dobbiamo prendere una e così lavoriamo finché non arriviamo qui davanti solo dopo noi cominciamo girare circolare continuazione ricordiamoci qui aggiungiamo un giro aggiungiamo altre gira non aggiungiamo arriviamo qua dal qui camminciano maniche perciò aggiungiamo solo verso maniche io ho messo anche freccia e qui uguale una giorno un giro aggiungiamo maglia altra giro non aggiungiamo perciò qui abbiamo aggiunto a facciamo abbiamo aggiunto qua dopo quando cominciamo a circolare è anche uguale anche qua io ho fatto io ho fatto e mi venuta è così volevo anche dire cosa questa metoda si può fare anche roba di estive per esempio questa io ho fatto estive come voi guardate davanti voi potete fare reglan come come traforato come come traforato qui tutto dal gusto questo cotone pesantino un po cotone però cotone puro questo io ho fatto estive solo volevo dire ragazze questa metoda giapponese mi piace tantissimo per un motivo come io ce l'ho ce l'ho fisico quale io già non posso usare roba stretta mi bisogna già maddelle quale può mi coprire i miei difetti nel mio nelle mie figure nel mio fisico perciò questa maddella perfetto specialmente per persone ciccione oppure 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 molto buona molto buona allora faccio vedere io ho fatto schienale come io ho detto avanti indietro io ho fatto avanti indietro arrivato e adesso io ho già camminciato a circolare mi venuta è così questa indietro come voi guardate questa maniche perché anche maniche prima ho preso due maglie tornate indietro e così qui sempre un po come voi guardate qui è sempre indietro cresciuta è giusto così deve essere perché deve stare nelle spalle molto comodo questa cashmere invernale perciò io non ho fatto traforato io ho fatto molta ho presa male quale è chiuse dopo davanti ecco questa parte di davanti reglan reglan perché così pian pianino comincia a venire così e anche indietro sempre così invece nelle maniche normalmente come reglan classico e così quando noi mettiamo insieme così così e noi vediamo cosa nostra maglione questa schienale noi vediamo questa schienale queste nostre maniche e dopo va tutto giusto quando io ho cominciato quando io ho cominciato a fare circolare circolare solo dopo io ho messo il contatore di giro adesso io dovrebbe io ho già fatto giro sette quando io ho aggiunto maglie adesso io devo fare giro quali io faccio normalmente io faccio vedere guardate guardate io sempre faccio diritto guardate qui io con giro ho già aggiunto ecco faccio diritto sposto il cantatore di giro e metto cifro e metto cifro 8 vuol dire quale giro pari io non devo aggiungere niente e faccio normalmente normalmente per caso come io devo aggiungere io faccio vedere questa linea reglan metto il lucchetto solo qui questa parte io posso aggiungere come io aggiungo io prendo dal sotto dal sotto questa metto con questa maniera nelle questa ferro e faccio così diritto così mi è venuta maglia crociata e non viene buco è così adesso io devo fare tutti i giri senza senza aggiungere niente ecco spiego ancora ragazzi non avete avete paura perché qui come voi guardate così come io già ho fatto Maglione adesso io appena ho fatto vedere giapponesi dovrebbe essere così come io ho fatto noi dobbiamo fare qui lunghezza quale per noi bisogno misuriamo da questa manica davanti dove abbiamo camminciato questa nostra manica io ho fatto questa parte manica azzurra a questa manica rossa perché così più o meno io capisco quale zona io io sto dal qui e giù io ho fatto per me venticinque venticinque centimetri maggior parte ottant due ottantacinque giri bisogna fare ottantacinque giri però noi siamo tutti uguali e noi siamo tutti diverse forse qualcuno bisogna anche meno oppure anche di più però lo stesso voi dovete fare per avere nelle maniche quantità maglie quale per voi bisogna altra maglione io ho fatto ottanta 85 questa volta io voglio fare 90 perché nella manica dove parte di di muscolo sempre più più grossa perciò io vorrei più più libero più libero perciò questa volta io faccio 90 cm per nostra per per manica quando io arrivo già quando io già arrivo parte io faccio vedere qua questa manica questa io ho fatto maglione qui io ho fatto 85 giri dopo io qui aggiunto maglie io non ricordo oppure dieci oppure quindici maglie e dopo e dopo e dopo noi cominciamo a fare circolare continuiamo il nostro corpo e facciamo la nostra lunghezza giù quale è bisogno e anche maniche qui voi potete per esempio io qua prendeva due due insieme pian pianino per stringere e arrivare maniche quali mi bisogna questa volta io vorrei diminuire meno maglie mi sembra io ho spiegato ho spiegato tutto perciò voi dovete dovete misurare quanti centimetri voi avete fatto da maniche davanti così massimo 27 centimetri come per uomo 30 29 30 centimetri perché questa maglione si può fare anche per uomini qui non c'è niente straordinario oppure differenza tramite donna e uomo perché queste è sempre belle mi piace allora mi sembra raccontata tutto come c'è domande voi per piacere scrivete io spiego però dopo io faccio altra puntata quando io arrivo con mia lunghezza di reglan e faccio dopo vedere voi come io metto a parte maniche e come io aggiungo sotto per adesso la ringrazio tanto la ringrazio tanto cominciate a fare non avete paura ragazze non avete paura niente 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 dovete provare come dicono non provare per credere bisogna provare perciò voi provate questa modella giapponese mi piace tantissimo specialmente per donne quali ce l'hanno un po' ciccione io ciccione io dico sincero è così perciò consiglio venire e fare insieme con me senz'altro riuscirete però adesso un po' un po' bruttino da vedere però ragazze ci vede ci vede tutto questa è le maniche questa è davanti reglan già vedete come fa garmonica perché vuole stare così dopo io metto poveretto quando arriva questa altra mia manica e questa parte di indietro indietro questa buon cashemere adesso per guardare un po' non tanto bello però ragazze quando io lavo diventa morbidissimo come come questa perché questo è lo stesso lo stesso filo quale mi ha regalato mia ex ex gallega lei mi ha regalato già erano pezzi già fatti come le erano fatte nelle macchine e così io ho disfatto disfatto e questa parte io ho non disfatto io ho lasciato intero e così io ho utilizzato subito per me già tutta pronta quando così voi guardate si può pensare dalla fabbrica perciò questa parte indietro guardate questa parte indietro questa parte parte davanti importante deve essere questa più lunga schienale io ripeto così dopo vostro malione non va indietro deve stare comodo nelle vostre spalle e così per adesso io finisco cominciamo lavoriamo insieme chi vuole chi non vuole può guardare finale dopo guarda grazie io auguro voi buon salute e fortuna